Niccolò Pacinotti, classe? 95 Luogo di nascita? Firenze Team di appartenenza? GS Mastramato Esperienze in maglia azzurra? Ho avuto esperienze da Juniors, ho partecipato al campionato europeo e ho un gira a tappe in Germania al Trofeo Kasper Il CT Cassani ti ha voluto nella nazionale che prenderà il via domani al Gran Premio Nobili, cosa ti aspetti? Mi aspetto di vivere una bella esperienza perché partecipare a questa corsa insieme a molti campioni che hanno già affrontato anche una corsa molto importante per la Tirena Adriano mi rende partecipato e molto felice Grazie Niccolò e in bocca al lupo Grazie